Cosa in più, quando c'è poco, sta fuori a amore e sale più la vita che... Ciao a tutti ragazzi, oggi è esattamente il 10 maggio del 2000 e siamo alla festa di San D'Alfio a tre castagne, festa che non ci siamo mai stata in prima, il cielo è splendido ragazzi, qui c'è un sacco di luminaria, street food dietro, e qua è testa non stop, ah no, non sto sotto, comunque là c'è la chiesa qua, boh niente, vediamo se riusciamo a cliccare il sound, poi farò vedere il clip a vari dei video. No, qua sono l'astro è, mi fanno paura un po' questi tre, non capisco questa cosa delle sedie, ci sono le gambe, e appunto sono queste le gambe, sono le figole di sopra queste sedie, vedi qua è Cilino e Alfa, di oggi con il nome? C'è la delfio? Ja, io sono Luca e grazie che sono le gambe! I don't know, I don't know, I don't know I don't know I don't know Oh, shit Oh, we want to finish Ma che è stata fatta con la cassa? E' un bambino, eh? E' un bambino E' un bambino a peso, ragazzi E' un bambino a peso, ragazzi E' un bambino a peso E' un bambino a peso E' un bambino a peso Ma no, non so dove stiamo andando E' un bambino a peso E' un bambino a peso Ciao, ciao Ragazzi, abbiamo un sacco di vie, travesse Tutto di castagliapiedi Col freddo che poi sta scolando un altro che siamo a Natale Ma siamo dove? Cioè, stanno andando Stanno scendendo da qua E' che stanno scendendo Allora, comunque Vieni in guarda Stanno anche a te Stanno veloci che stanno scappando Stanno scappando Asseggio Allora, stanno salendo E' gente, non è così scema Non lo sento Ha pulato Allora ragazzi siamo andati dentro la chiesa che non sapevamo, a parte che faranno meglio la foto di P, e poi ci siamo andati verso la chiesa. Ma dove vi porto io raga dove vi porto?